Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbe e sono qui oggi per presentarvi un video molto interessante Infatti andremo a vedere quello che è il portafoglio azionario e non, fate attenzione Della Bridgewater Associates, ovvero l'Edge Fund di cui Ray Dalio è a capo Per chi non sapesse chi sia Ray Dalio, io vi consiglio assolutamente di cercarvelo su internet Un video molto interessante che potete trovare su YouTube è Ray Dalio Principles È un video dove spiega un po' come gira la macchina economica C'è anche il doppiaggio in italiano quindi vi consiglio assolutamente di guardarlo perché è spiegato veramente molto bene Detto questo ragazzi miei andiamo a vedere quali sono le più grandi posizioni all'interno del portafoglio della Bridgewater Associates Come potete vedere Ray Dalio è un grande investitore in ETF Per chi non sapesse lui è anche uno dei padri fondatori dell'All Weather Portfolio In prima posizione con il 16% del portafoglio quindi una grande fetta Abbiamo un ETF sulle Simp 500 che come sapete tutti ha all'incirca un rendimento medio che va dall'8 al 10% anno Quindi tantissima roba Considerate che infatti dovendo gestire un hedge fund deve sottostare a delle regole un po' più ferree È ovvio infatti che non puoi investire 20 miliardi in una penny stock perché ci sono i regolamenti che non lo permettano Quindi come potete vedere questo portafoglio qua è un molto conservativo ma ha storicamente ottenuto dei rendimenti spaventosi Alla seconda posizione abbiamo un ETC che replica l'andamento dell'oro e ha una posizione molto grossa che è all'incirca del 12% L'11,64% Poi al terzo posto abbiamo un altro ETF sui emerging markets ovvero un ETF sui mercati emergenti Quindi un ETF molto interessante Io vi consiglio se non avete troppo voglia di fare stock picking io vi consiglio di investire in ETF Tra l'altro se avete piacere di vedere un mio video in cui vi parlo di qualche ETF interessante Fatemelo sapere che se raggiungiamo 100x sotto questo video qua ve lo porterò a breve Detto questo proseguiamo con il video Qua arriviamo alla prima azione che ragazzi miei conoscerete tutti è Alibaba dove anche io sono investito Considerate che lui ha 1,33 milioni di azioni Alibaba E tra l'altro come potete vedere ha praticamente aumentato il 40% la posizione nell'ultimo quarter Che vi fa capire quanto effettivamente creda nella Cina perché non sarà l'unica azione cinese ma ce ne saranno veramente molte Quindi fate attenzione così capite un attimo quali sono secondo voi i movimenti che potrebbero essere interessanti per i prossimi anni Come vi dicevo io sono molto molto bullish su Alibaba infatti il mio price target a 5 anni è di circa 890 dollari per azione Che garantirebbe un guadagno spropositato Considerate che adesso il prezzo di operazione sta a 259 Considerate anche che le stime di crescita annuali sono del 25,96 secondo i miei calcoli Quindi una crescita molto molto interessante e considerate che attualmente ha un pie bassissimo perché per un'azienda che cresce a questi ritmi qua Quindi all'incirca tra il 20 e il 25% un pie di 34 è bassissimo Considerate che dovrebbe avere secondo me un pie all'incirca tra i 40 e i 45 Quello sarebbe un pie giustificato 34 mi sembra bassissimo Infatti come potete vedere è crollata molto Alibaba Considerate che dai massimi vediamo quanto dista Però se non ricordo male dista veramente ancora parecchio Considerate che dai massimi ha perso il 17% Vuol dire che tornando ai massimi vi garantirebbe già un guadagno del 23% Tornando ai massimi solamente Cioè intorno ai 319 vi garantirebbe già un guadagno del 23% Però considerate che secondo me potrebbe arrivare tra 5 anni Continuando a queste crescite qua Potrebbe arrivare intorno agli 889 Che secondo me è il mio price target Il che vorrebbe dire un guadagno del Facciamo un attimo il calcolo 889 vorrebbe dire un guadagno del 243% Che sarebbe tantissima roba Cioè a me piacerebbe molto Infatti Alibaba in portafoglio ha anche una grande posizione E tra le prime dieci posizioni Comunque continuiamo con il suo portafoglio Come potete vedere ha poi ancora un etf sull'oro Che tra l'altro occupa il 3,42% Come potete vedere ha poi un etf sulle principali aziende dell'indice S&P 500 Cioè a quelle più capitalizzate Ha poi un'altra disposizione su un'azione singola Che è Walmart Che sto analizzando E anche a me piace molto Non sono ancora riuscito a capire Quale potrebbe essere un bel prezzo di entrata Però Walmart è un'azienda molto molto interessante E tra l'altro ragazzi miei È una delle ultime entranti all'interno del portafoglio di Ray Dalio Infatti le ultime sono Walmart, Procter & Gamble L'etf sull'emerging market Alibaba che ha aumentato la posizione E Johnson & Johnson Quindi anche lui come Warren Buffett È andato un po' nel settore farmaceutico Mentre ha venduto qualche posizione nell'etf delle S&P 500 Qualche posizione nell'etf core delle S&P 500 Un altro etf sulle più grandi aziende capitalizzate cinesi E anche un altro etf sulle azioni cinesi Insomma questi qua sono i movimenti principali Comunque qualche altra azienda interessante È JD.com Che occupa l'1,56% Che è una società di e-commerce cinese Poi ha Coca-Cola che è interessante Ovviamente non è a dei prezzi Diciamo che non è regalata Però è interessante Johnson & Johnson che occupa l'1% Tra l'altro ragazzi Io sento da tantissimi youtuber parlare benissimo di Johnson & Johnson Ma a me non fa impazzire Infatti non l'ho mai acquistato in portafoglio E tendenzialmente io ho molta gente in portafoglio E il fatto che io non ce l'abbia Potrebbe già essere un'indicazione del fatto che Secondo me non è troppo interessante Però fate le vostre dovute valutazioni Pepsi invece è molto interessante Però l'ho sempre trovata molto molto elevata come prezzi Non mi ha mai fatto impazzire infatti Pinduoduo è una di quelle aziende che Come vi dicevo ho in watch list Però non ho ancora avuto il tempo di realizzarla È molto interessante Ma come vi dicevo non ho ancora avuto il tempo di realizzarla Costco non l'ho mai analizzata Però se non ricordo male Però dovrebbe essere una compagnia di supermercati Fatemi controllare un attimo Ma direi di sì Sì è una catena di supermercati NetEase come vi dicevo Occupa lo 0,83% del suo portafoglio A 750.000 azioni NetEase Che come dicevo è quella compagnia cinese Che sviluppa videogiochi A McDonald's Che per me è un brand fortissimo Ma non mi sono mai piaciuti i loro bilanci Quindi non sono mai entrato Baidu l'avevo analizzata Che sarebbe diciamo un po' la Google cinese Però è molto 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 meno diversificata E non mi ha mai fatto impazzire E invece evidentemente mi sbaglierò Ma Ray Dalio ce l'ha in portafoglio Un'altra azienda che non ho mai avuto troppo il tempo di analizzare Ma che se non ricordo male Avevo nella watchlist Perché mi sembrava interessante Era Tal Group Che se non ricordo male Deve essere una compagnia Di università Università private Che però non avevo più analizzato Perché non avevo avuto troppo tempo Però se non ricordo male Deve essere un'azienda di come vi dicevo Compagnia universitaria Però non saprei dirvi al 100% Poi tra l'altro a Starbucks Che tra l'altro Ho visto in pochissimi portafogli Quindi potrebbe essere interessante E poi ragazzi miei Anche lui Anche Ray Dalio Ha la sua posizione in NIO E lui ha 1,57 milioni di azioni E non se lo sapete Ma lui è entrato veramente durante il crollo Quando stava a 1-2 di prezzo Quindi non ho idea Di quanti soldi abbia fatto Veramente tanti ne ha fatto Detto questo sinceramente Io preferisco molto di più Il portafoglio Della Bridgewater Associates Rispetto a quello Della Berkshire Halloway E soprattutto Penso che Ray Dalio Sia un investitore Mi attualmente Migliore di Warren Buffett Ma queste sono le mie valutazioni Diciamo che Mi ritrovo Di più nel suo stile Di investimento Rispetto a quello di Warren Buffett E perché se lo fosse perso Ho fatto anche il video In cui parlo del portafoglio Della Berkshire Halloway Quindi se ve lo siete perso Magari fateci un salto Detto questo ragazzi Io spero che questo video qua Vi sia piaciuto Lasciate un bel like Un commento E niente ragazzi Vi chiamo al prossimo video Ciao